Domenica 17 aprile siamo chiamati a votare per il referendum sulle trivelazioni. Il Partito Democratico e Renzi invitano a sabotare il referendum e andare a mare. Io invece dico di andare a votare e far decidere i cittadini perché votare è un delitto ed anche in questa occasione è giusto che i cittadini si esprimano per non lasciare decidere i politici come è stato fatto con l'articolo 18. Andare a votare è votare sì perché il mare è nostro. L'incidente del Mediterraneo lo fa morire. Votare sì perché bisogna continuare a investire sulle energie rinnovabili ed arrivare al fabbisogno con le fonti alternative. Sì perché grazie alla magistratura e alle intercettazioni di questi giorni il coperto è saltato e si è capito che questo governo lavora solo per i petrolieri, per i parenti e gli amici degli amici. Renzi attacca il referendum voluto da sette regioni governate anche nel suo partito. Lo scopo è nascondere il ruolo delle lobby nel suo governo. La verità è che in questo governo le lobby contano e dettano la linea, altre che autonomie di questo governo. Roberto Rossi, presidente della regione toscana, ieri nella direzione del suo partito ha detto che vota sì e dice che bisogna tutelare sia gli interessi nazionali che i posti di lavoro. Ma questo non si può fare assegnando concessioni vita naturale durante le trivelle. Il governo, invece di dire sì alle trivelle, farebbe bene ad approntare un piano energetico nazionale di cui ancora oggi non si è vista nessuna traccia. Le fonti alternative sono il futuro. Sì perché i nostri figli voterebbero sì. Quindi il 17 bisogna andare a votare sì anche perché noi, l'Italia, abbiamo degli impegni con l'Europa e con tutto il mondo. Io stico l'auto non si è vista nessuno. No. 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 Do.